La domanda che ci facciamo tutti, ma sempre quando leggiamo la Bibbia, è ma i personaggi che sono raccontati sono personaggi storici e le storie che vengono raccontate sono resoconti accurati di fatti veramente accaduti? La discendenza di Sam, soprattutto nell'ultima parte, ci introduce nel cast di questa nuova serie, cioè nel cast di questo nuovo racconto. Abbiamo la presentazione dei personaggi principali. Un uomo e una donna, Abram, che diventerà Abramo, e Sarai, che poi sarà conosciuta come Sara. Si dice innanzitutto che Sarai era sterile e non aveva figli, quindi Sarai, moglie di Abram, non è in condizione di avere figli. È proprio il preambolo fondamentale, è il punto di partenza di questa storia. Poi cos'altro si dice? Che questa è una famiglia di erranti, di migranti per professione, cioè si tratta di nomadi. I nomadi si stabiliscono in zone dove è possibile per loro allevare animali e farlo in pace, in equilibrio con le genti che abitano luoghi diversi. E c'è un progetto di questa famiglia, la famiglia di Terak. La famiglia di Terak ha un progetto di emigrazione molto chiara. Cioè Daur dei Caldei vuole andare a stabilirsi nella terra di Canaan. Quindi, come vedete, c'è una storia che precede la storia di Abramo. Anzi, la storia di Abramo, Isac e Giacobbe. C'è questa storia, la storia della famiglia di Terak, discendente di Sem, che è una storia già avviata. Entriamo nel mezzo dell'azione. Delle scelte sono state fatte. Non c'è stata nessuna rivelazione divina fino adesso. Questa famiglia si sposta in cerca di luoghi migliori e aveva avuto come obiettivo Canaan. Ma prima di entrare in Canaan, Terak, il patriarca, il capo tribù, muore. E a questo punto la palla passa a figlio Abram. Perché Terak morì a Carran. E qui comincia, con il capitolo 12, il racconto dei patriarchi. Un racconto che si estende per tre personaggi. Anche se poi, di fatto, le grandi saghe non sono tre, ma sono due. Cioè la saga di Abramo e la saga di Giacobbe. Di Isacco, insomma, si dice abbastanza poco. E quel poco che si dice, le cose più importanti, si dicono o in riferimento ad Abramo o in riferimento a Giacobbe. Quindi diciamo che Isacco è un po' un ponte, in quanto figlio di Abramo è padre di Giacobbe. Ma su di lui non è intessuto una vera e propria trama, non c'è un vero e proprio racconto. Se fosse una serie tv, quindi nello stile oggi del racconto, della narrazione a cui siamo più abituati, avremmo due serie. La prima dedicata alla famiglia di Abramo e poi successivamente a quella di Giacobbe. E avremmo comunque tre personaggi. Con la storia di Abramo e la sua discendenza compaiono sulla scena quelli che sono gli antenati del popolo di Israele. Allora, qui si comprende il senso di ciò che è stato raccontato finora. Cioè con i primi undici capitoli, lo abbiamo già detto, lo ripetiamo, la Bibbia inquadra in realtà la storia di Israele su uno sfondo più vasto, cioè su uno sfondo universale. C'è un mondo nel quale Israele viene collocato. E le sue radici vengono trovate in una famiglia. In questa famiglia di cui appunto si raccontano tre grandi antenati. La cosa un po' strana rispetto ad altre grandi saghe familiari dell'antichità, perché quella di Abramo e sa che Giacobbe non è l'unica, ci sono altre saghe che si rifanno a eroi antichi nei quali popoli trovano i loro capostipiti, le loro origini, i loro genitori. Di solito in altre epopee il capostipite di un popolo è uno solo. È intorno a lui che si origina tutta la storia e il destino di un popolo. Pensiamo per esempio a Enea per i Romani, quindi è una storia che è di solito un progenitore. Ma non in questo caso. Ce ne sono tre. Vedremo poi, quando andremo a leggere i testi, però intanto ve lo anticipo, che ci sono varie ipotesi a riguardo. Una delle ipotesi più convincenti tra gli studiosi oggi, anche quella sostenuta all'istituto biblico che io ho frequentato, quella sostenuta da Giuntoli e poi dal suo maestro Sca, che è stato anche mio professore, è che in realtà ci sono tre progenitori perché Abramo, Isacco e Giacobbe condensano tre tradizioni diverse. Quindi una tradizione che trovava il proprio capostipite capostipite in Isacco, un'altra in Giacobbe e quella appunto che trovava la sua origine in Abramo. Quindi sono tre racconti diversi sulle origini di Israele. Questo perché il popolo di Israele non è un popolo diciamo semplice, ma è un popolo composito, cioè appunto formato da diverse tribù, le tribù del nord e le tribù del sud. E se noi andiamo a vedere anche la geografia, diciamo, degli spostamenti di Abramo, Isacco e Giacobbe, vediamo anche la geografia dei santuari antichi che erano dedicati a questi patriarchi, vediamo che tutta la storia di Abramo ruota intorno al sud della Palestina, quindi intorno diciamo alla Giudea, a Gerusalemme, mentre la storia di Giacobbe è soprattutto una storia del nord. Quindi noi vediamo nel racconto dei patriarchi il condensarsi di tradizioni diverse che convergono a formare un unico racconto, che appunto imparenta e collega questi tre personaggi. Quindi abbiamo un'origine complessa perché la storia di Israele è complessa, perché lo stesso popolo di Israele è complesso nella sua formazione e nella sua origine. Quindi la coscienza di questo popolo riflette appunto una storia diversificata che vede non un solo patriarca, non solo progenitore, ma almeno tre, Abramo, Isacco e Giacobbe, che tornano sempre, che sono sempre citati, anche nel Nuovo Testamento. Ricordate quando per esempio nella polemica con i Sadducei Gesù dice che l'immortalità della vita dopo la morte è testimoniata già nel Pentateuco. Perché? Perché Dio è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Abramo, Isacco e Giacobbe sarebbero morti, ma siccome Dio è Dio dei vivi e non dei morti, questa è testimonianza che c'è una vita dopo la morte. Questa è un'intuizione geniale di Gesù che viene riportata dai Vangeli, ma per sottolineare come questa triade Abramo, Isacco e Giacobbe torni sempre. Quindi Abramo, Isacco e Giacobbe formano un racconto delle origini del popolo di Israele. Quindi abbiamo finora, dal capitolo 1 al capitolo 11, l'origine del mondo, l'origine dei popoli. Poi dal capitolo 12 al capitolo 36, le origini di Israele. E poi, come vedremo, la saga di Giuseppe, l'ultima parte di Genesi, lo anticipiamo, è un racconto più di stampo sapienziale. Perché in realtà è una riflessione sull'opera di Dio, sulla provvidenza di Dio che regola e ordina gli eventi anche più sfortunati. Ed è una grande metafora anche della storia dell'esilio, della storia provvidenziale di Dio, appunto, che salva Israele anche attraverso, come vedremo, il male che è capace di fare, le colpe che commette. Quindi c'è un disegno dietro. Ma questa è una riflessione successiva, più sofisticata, appunto, di stampo sapienziale. Quindi abbiamo le origini del mondo, le origini di Israele, una riflessione sul piano di Dio e sull'opera divina. E questo, diciamo, è il contenuto, in sintesi, del libro di Genesi. A questo punto, molti di voi si faranno delle domande. E la domanda che ci facciamo tutti, ma sempre quando leggiamo la Bibbia, è. Ma i personaggi che sono raccontati sono personaggi storici? E le storie che vengono raccontate sono resoconti accurati di fatti veramente accaduti? Allora, ovviamente, troverete tra gli studiosi anche posizioni diverse. E c'è anche tutta una storia dello studio della Bibbia che vede prendere posizioni diverse a diversi studiosi. Effettivamente l'istinto, diciamo, primario degli studiosi è quello di liquidare il testo dicendo non abbiamo fondamenti storici per questi racconti, perché questi racconti non hanno l'intenzione di essere storici. Diciamo che oggi questa è la posizione prevalente. Però bisogna andarci per i piedi di biombo. Perché? Perché in fondo, sembra, se leggiamo con attenzione, ci sono degli indizi che fanno invece pensare che si tratti di racconti che attingano a una verità storica. Facciamo un esempio. Il fatto di raccontare, il solo fatto di raccontare che questi patriarchi non sono cananei, cioè non sono nativi di cananei, ma hanno un'origine straniera, estranea, per di più dalla terra diciamo che è stata tra la più criticata, disprezzata della storia di Israele, che è Babilonia. E da lì viene appunto Ur dei Caldei, vuol dire proprio dalla Mesopotamia, dal cuore della Mesopotamia, questo dovrebbe essere un indizio che non si tratta di personaggi del tutto inventati. Perché se fossero personaggi inventati, forse la saga farebbe provenire l'origine degli israeliti da qualche altra parte o comunque dalla stessa canana. Quindi questo potrebbe essere un indizio di storicità. Un altro indizio di storicità potrebbe essere, per esempio, che nei racconti dei patriarchi si menzionano usi, costumi, usanze che non sono ebraiche o che addirittura sono condannate dalla Bibbia, senza andare troppo in dettaglio. Per esempio Giacobbe sposa due sorelle e questo matrimonio è vietato dal Deuteronomio, cioè nessuno può sposare due sorelle secondo la legge ebraica. Quindi sembrerebbe contrastare questo con un uso successivo. Quindi questo potrebbe riflettere, e ci sono motivi razionali per pensarlo, degli usi più antichi. Così come il modo in cui i patriarchi si relazionano con altri popoli. Cioè è normale, per esempio, per Isacco, sul mandato di Abramo di andare a cercare una moglie tra i parenti che sono aramei. E lo stesso Abramo è definito come un arameo errante. Quindi in realtà questa relazione anche di parentela con i popoli vicini, questa relazione armoniosa ai popoli vicini, è del tutto diversa e del tutto opposta invece a quella che vedremo più tardi nel primo millennio durante i regni di Israele, quando appunto addirittura gli aramei sono dei nemici mortali, sono dei nemici acquiritissimi del popolo di Israele. Quindi questo rifletterebbe appunto una situazione storica più antica e che secondo una possibile ricostruzione storica dovrebbe riflettere il mondo della Mesopotamia, Palestina, nel periodo del bronzo, la cosiddetta età del bronzo, ma nel periodo più tardo, cioè intorno a 1200 anni più o meno prima di Cristo. Perché sapete, con 1100, 1000 anni prima di Cristo si entra invece nella nuova era, l'età del ferro, che insomma cambia molto la tecnologia, quindi c'è proprio un cambiamento anche da un punto di vista archeologico di ciò che si trova scavando. Quindi saremmo nel periodo del tardo bronzo. Quindi questi eventi sarebbero insomma comunque un resoconto di fatti, di tradizioni raccontate che attingono all'antichità che risalgono più o meno a quel periodo. Però esiste anche una corrente di studiosi, soprattutto insomma quelli diciamo anche più vicini a noi cronologicamente, che tendono a essere molto scettici di queste cose, di questi argomenti che vi ho menzionato. Questo perché diciamo sono più convinti, gli attuali studiosi, che i racconti dei patriarchi vanno letti più come racconti di tipo teologico, con in mente un'idea molto precisa del significato di Israele e della sua relazione con gli altri popoli. E che quindi molte di queste storie sono retroproiezioni nel passato di questioni più attuali. Anche perché di molti di questi usi ebraici condannati dal Deuteronomio abbiamo testimonianza che sono stati conservati. Adesso vedremo per esempio ci sono due città che sono state trovate in tempi relativamente recenti scavando diciamo al confine tra la Siria e la Mesopotamia, in queste zone che ormai purtroppo sono difficilmente accessibili agli studiosi a causa della guerra, delle tensioni che tutti insomma conosciamo di questi ultimi anni. Città come Mari o città come Nuri o come Ebla, ma soprattutto Nuri e Mari ci hanno restituito delle tavolette su cui abbiamo letto molti di questi usi, leggi e costumi di questi popoli e molte di questi testi hanno confermato degli usi che sono menzionati anche nelle storie dei patriarchi. Per esempio l'adozione di uno schiavo che prende il posto di un figlio e quindi riceve l'eredità come accade nel caso di Eleazzaro per Abramo, almeno nel progetto iniziale di Abramo. E poi abbiamo casi anche menzionati come una normale pratica della possibilità da parte di una schiava di fare figli legittimi al posto della donna, cioè della moglie. Quindi la moglie poteva offrire la sua schiava, quindi diciamo in qualche modo farsi prestare il corpo della sua schiava per offrirlo al marito affinché il marito fecondasse con lei una discendenza che però apparteneva alla padrona. Quindi diciamo una specie a diremmo oggi di utero in affitto per una cosa fatta un po' più tutta in famiglia dove la schiava che era parte della famiglia serviva alla padrona per in qualche modo prolungare il suo stesso corpo e dare a lei in sua vece dei figli che di diritto appartenevano alla moglie legittima. Quindi questo costume, questo uso antico è testimonioso anche questo da alcune tavolette che sono conservate nei musei e su cui possiamo leggere queste leggi che erano già praticate nell'antichità. Tutto questo non è però una testimonianza definitiva. Per molti studiosi, anzi la maggior parte oggi, molti di questi costumi non erano stati del tutto abbandonati anche in periodo più tardo. Quindi quando si formano queste tradizioni, quando si formano questi racconti già esistevano, quindi non sono di per sé una prova della storicità di questi eventi. Quindi che cosa succede? Succede che l'archeologia, anche l'archeologia diciamo ha due fasi, un momento di passaggio tra dapprima sostenere apertamente i racconti biblici, poi nel rendersi conto successivamente che prende una strada propria, cioè lo studio dell'archeologia della Siria-Palestina e non si presta a sostenere in tutto e per tutto il racconto biblico. Quindi a un certo momento gli archeologi hanno smesso di confrontarsi con la Bibbia. Quindi sono andati per conto loro, hanno fatto il loro lavoro e oggi confrontando i dati biblici con quello dell'archeologia troviamo qualche cosa che ci potrebbe, diciamo, indirizzare verso la storicità, ma moltissime altre cose insomma che ci portano lontani da questa storicità. Ma insomma, andando a stringere, cioè questi racconti possono essere considerati i resoconti di fatti del passato e questi personaggi possono essere considerati come realmente esistiti e dobbiamo però domandarci ma perché ci facciamo questa domanda? Cioè perché per noi è così importante che questi racconti siano il resoconto esatto di fatti avvenuti? Ci sono alcuni che confondono verità con fatti effettivamente accaduti. Se noi mettiamo insieme fatti effettivamente accaduti con il concetto di verità, cioè se noi facciamo un'equivalenza tra resoconto preciso e verità, allora abbiamo un problema con la Bibbia, abbiamo un problema serio perché noi non abbiamo abbastanza elementi per provare che questi fatti sono storicamente avvenuti, anzi spesso abbiamo appunto testimonianze contrarie. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo considerare che questi racconti in realtà dobbiamo prenderli per quello che sono, cioè per per racconti che ci vogliono dire delle verità, ci vogliono trasmettere delle verità, ma verità che non sono storiche, cioè che non sono fatti nei loro dettagli. Questi racconti assomigliano di più a un terzo genere che non è il mito, perché qui non siamo più nel mito. Il mito diciamo era il genere letterario prevalente nei primi undici capitoli del libro di Genesi, cioè racconti che vanno proprio indietro in un tempo immemorabile e che parlano di personaggi che in qualche modo rappresentano conflitti e valori universali e che sono spiegazioni dell'origine delle cose, ma nel senso del loro significato, del senso complessivo della realtà. Quindi la realtà presente viene spiegata in questo modo, cioè in parole povere, il mito è una specie di filosofia in linguaggio narrativo, o teologia in questo caso, nel caso della Bibbia in linguaggio narrativo, perché l'intento degli undici racconti della Bibbia, come abbiamo già detto, è quello di sottolineare come il Dio che origina ogni cosa, che è lo stesso Dio di Israele, è la fonte di ogni bontà, di ogni bene e dal quale tutto si origina. E tutto il conflitto primordiale non è quello tra forze cosmiche nel caos, tra il bene e il male che si confliggono, ma l'origine di tutte le cose è nella bontà e nell'iniziativa di Dio e l'unico vero conflitto è tra il piano divino e la malvagità dell'uomo che lo contrasta. Ma nonostante questo, il bene di Dio si realizza e si propaga con la nascita e la diffusione e la prosperità degli esseri umani. In questo contesto entra il popolo di Israele. Diciamo che con i patriarchi entriamo in un altro tipo di genere letterario, cioè più quello che i tedeschi chiamano la legende, che potremmo, semplificando, tradurre leggenda, ma leggenda nel senso che si cerca di raccontare eventi che hanno una lontanissima tradizione e che quindi non hanno nessun modo di essere verificabili storicamente, ma che hanno, diciamo, delle radici nella realtà che vengono però riportate e raccontate in modo, appunto, anche questo teologico, in modo filosofico teologico. Cioè si vuole raccontare come si è voluta fare, diciamo, una presentazione del significato del mondo alla luce dei racconti, diciamo, dei miti originari. Qui si cerca di raccontare il significato, la storia del popolo di Israele, leggendolo nel percorso di questi personaggi e soprattutto leggendo i valori fondamentali di Israele. E i valori fondamentali quali sono? Sono la sua relazione con Dio, la sua speciale relazione con Dio. E come vedremo, i temi ricorrenti di questi racconti sono già presenti nei primi versetti del capitolo 12 che ci introducono nel racconto di Genesi 12, 36. E cioè vattene dalla tua terra, il Signore disse ad Abram, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e tu possa essere una benedizione. Benedirò coloro che ti malediranno, che ti benediranno e coloro che ti malediranno, maledirò. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Non c'è una sola promessa qui, ci sono tre promesse in una, è una tri promessa, cioè abbiamo una promessa di discendenza, una promessa di benedizione, è una promessa della terra. E questi temi saranno i temi portanti di tutto il racconto del Deuteronomio, di tutto il racconto della storia di Israele. La discendenza, la benedizione, la terra. E questo è, diciamo, il significato della storia dei patriarchi. È lì che dobbiamo trovare la verità della storia dei patriarchi. In questo modo in cui Israele legge la propria storia. Perché questa è per noi credenti la rivelazione divina. Io personalmente credo che Abramo sia un personaggio che è realmente esistito, ma questa realtà, questa sua reale esistenza, è molto più importante che ci sia pervenuta a noi in modo leggendario, cioè attraverso dei racconti che noi non possiamo alla fine stabilire se siano storici o no. Quindi non abbiamo modo, non abbiamo strumenti per dire che questi fatti sono veramente avvenuti. che noi dobbiamo supporre appunto che siano legende, cioè costruzione non fantasiosa, ma ispirata di questa storia che attraverso la sua narrativa ci vuole comunicare una verità. E la prima grande verità con cui ci confrontiamo in questi racconti, nel personaggio di Abramo per esempio, è proprio la verità della fede. Che cosa è la fede? Ecco, il personaggio di Abramo, origine padre del popolo di Israele, è l'uomo di fede per definizione, per eccellenza. Ma anziché dirci la Bibbia che cosa è la fede, ci racconta la storia di quest'uomo. La storia di quest'uomo nel quale Israele si riconosce, nel quale un popolo intero vede la propria identità e vede il modo in cui dovrebbe relazionarsi nei confronti di Dio, vede il suo modello. Cioè, Abramo, Isac e Giacobbe non sono modelli in senso morale, perché non sempre, per esempio, si comportano in maniera ineccepibile, ma la loro storia è un modello, il loro sviluppo, il loro cammino è un modello per Israele. Quindi poi, di riflesso, diventa un modello per noi attraverso la rivelazione cristiana, se siamo cristiani. Quindi, ricapitolando, non dobbiamo ridurre, va bene, non dobbiamo prendere il testo e pensare che esso voglia ricondurci a una verità fattuale. Perché non è questo quello che conta. Saremmo, diciamo, distratti, ostacolati, appesantiti da questa ricerca. Anche gli antichi davano più importanza al significato di questa storia che non alla sua verità fattuale. La verità fattuale, diciamo, che diventa importante nel senso che non si tratta di qualcosa che sia disperso totalmente nella tradizione. Cioè, il valore di questi racconti ci dice una profonda verità che risale a un'esperienza antica che viene tramandata in questa forma, attraverso questi generi letterari. Quindi noi abbiamo un'accumulazione di elaborazioni su questa storia che prende una forma che poi viene a noi consegnata attraverso gli autori biblici, che radunano tutti questi racconti e li presentano a noi in una chiave molto precisa. Ma noi non abbiamo modo di raggiungere la realtà in senso fattuale di questi racconti. Dobbiamo prenderli così come sono, dobbiamo assimilarli e confrontarci con loro nel modo in cui oggi a noi si presentano. Ed è questo quello che cercheremo di fare soprattutto. Ci concentreremo anche sull'aspetto storico-critico, ma soprattutto nello stile da me preferito, cioè sullo stile narrativo. Cercheremo di cogliere nella struttura della narrazione di questi racconti il vero e più profondo messaggio che questi racconti di Genesi ci vogliono comunicare.